Cambio al vertice del comando logistico della Marina Militare di Napoli. Ieri mattina presso la base navale partenopea in via Acton si è tenuto il passaggio di consegne del comando logistico della Marina Militare. L'ammiraglio di squadra Donato Marzano ha ceduto il comando all'ammiraglio entrante di squadra Raffaele Caruso. L'ammiraglio Marzano ha guidato il comando logistico per oltre 18 mesi durante i quali l'alto comando ha supportato lo strumento navale attraverso i suoi comandi dipendenti distribuiti in tutta Italia e si è impegnato per rivalutare le strutture della Marina Militare presenti sul territorio partenopeo. Notevoli sono state le iniziative a favore della collettività specialmente per i più piccoli, a rischio di devianza minorile e le attività per promuovere la cultura del mare attraverso convenzioni con associazioni no profit. L'ammiraglio Caruso, dopo aver ricoperto numerosi importanti ruoli e delicati incarichi in Italia e all'estero, giunge a Napoli da Roma dove aveva l'incarico di sotto capo di Stato Maggiore della Marina Militare.